La mostra rappresenta una straordinaria occasione di conoscenza della scultura tra Sette e Ottocento, un periodo in cui quest'arte ha conosciuto una decisiva trasformazione grazie ai due geni dell'italiano Antonio Canova e del danese Bertel Thorvaldsen, protagonisti e rivali sulla scena ancora grandiosa di una Roma cosmopolita dove hanno avuto modo di confrontarsi con i valori universali della classicità e dell'antico. Furono infatti riconosciuti e celebrati come i classici moderni, capaci di trasformare l'idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando capolavori immortali che sono diventati, anche perché continuamente riprodotti, amati e popolari in tutto il mondo. Ed è proprio sulla tecnica che si concentra la nostra attenzione. Canova considerava la padronanza di una tecnica infallibile la base della scultura e il vero segreto della bellezza delle sue opere straordinarie. Nutriva una certa diffidenza per le teorie. Tanti hanno scritto sull'arte dettando precetti e dopo usciti tanti precetti manchiamo di artisti. Del resto la sua formazione è stata esclusivamente tecnica da quando, ancora bambino, ad appena cinque anni, venne affidato al nonno paterno Pasino, il quale, definito da un contemporaneo un valoroso tagliapietra, per non dire anche scultore, insegnò al nipote i primi rudimenti della scultura. Ma un decisivo progresso avvenne nel 1768, quando, a undici anni, fu ammesso nella bottega a Venezia dello scultore Giuseppe Bernardi. Quindi, ancora prima di entrare in accademia e di imparare a disegnare il nudo, si era ormai impadronito del mestiere, come conferma, la qualità delle sue prime opere, in particolare la coppia di statue mitologiche da Giardino, Euridice e Orfeo, e soprattutto un capolavoro come il gruppo Dedalo e Icaro, esposto con grande successo alla Fiera della Senza in piazza San Marco nel 1779. Sino al suo primo soggiorno a Roma, avvenuto nel 1779, Canova aveva utilizzato il procedimento di scolpire statue in pietra o in marmo utilizzando come guida un modello, in materiale plasmabile, di dimensioni minori dell'opera da realizzare. Fu a Roma che si accorse come gli scultori che copiavano e restauravano, integrando le parti mancanti, i marmi antichi, applicavano un metodo diverso. Infatti, per essere più fedeli, utilizzavano dei modelli in gesso della stessa grandezza della statua da copiare o integrare. Questi venivano segnati con un grande numero di punti, una sorta di chiodi metallici applicati sulla superficie, che facilitavano la trasposizione dal gesso al marmo da parte degli abili lavoranti attivi in questi studi. Canova ha avuto la grande intuizione di capire come questo metodo potesse essere perfezionato e applicato da uno scultore di opere originali che avesse al suo servizio una serie di lavoranti, a Roma più qualificati che altrove, che lo aiutassero a realizzare sia i modelli in gesso, sia le statue in marmo, anche per monumenti di grandi dimensioni. È stato infatti a partire dal celebre monumento funerario di Papa Clemente XIV per la Basilica Romana dei Santi Apostoli che ha cominciato, con un risultato straordinario che ha destato l'ammirazione generale, ad applicare i nuovi procedimenti che avrebbe poi usato per tutta la vita e che avrebbero rivoluzionato, utilizzati anche dal rivale Thorvalsen e dai loro numerosi seguaci italiani e stranieri, la tecnica della scultura in tutto il mondo. L'unica testimonianza visiva fedele dello studio di Canova a Roma e della sua organizzazione è un grande acquerello di Francesco Chiarottini, eseguito probabilmente nella primavera del 1786. Si tratta proprio del periodo in cui era in lavorazione il grande monumento papale, di cui si vedono i modelli in gesso e la versione in marmo, in corso di lavorazione da parte dei suoi aiutanti, delle singole statue che lo compongono. Quelle in particolare del pontefice benedicente e della figura allegorica della temperanza appaiono ancora sovrastate dai telai da cui pendono i fili a piombo per prendere meglio le proporzioni. Un giovane collaboratore tiene i capi della corda con cui far ruotare uno strumento fondamentale come il violino o asta da petto. Mentre grandi compassi, che venivano usati per misurare le distanze tra i punti che erano applicati ai modelli in gesso, giacciono accanto al modello della figura della mansuetudine collocata a sinistra. Davanti, appoggiata ad uno sgabello, vediamo la mano del pontefice che veniva dunque lavorata singolarmente perché ciascuno dei numerosi aiutanti era specializzato nell'eseguire, in una perfetta divisione del lavoro, un particolare dettaglio della statua. Questa fase in cui il marmo veniva sbozzato e portato verso la rifinitura non era che un momento di un lungo processo creativo che si svolgeva nel grande studio che, quando Canova era ormai affermato, si componeva di molti locali, tutti pieni di modelli e statue, in cui era permesso a tutti l'entrata. La fase finale, risolutiva e misteriosa della rifinitura del marmo, avveniva in una camera appartata riservata solo a Canova al termine di un percorso iniziato, in molti casi anche anni prima, con la ideazione dell'opera. Dopo aver pensato a un soggetto, Canova fissava le sue prime intuizioni in una serie di disegni da cui traeva poi ispirazione per realizzare i bozzetti in Creta che dovevano dare una prima idea della composizione plastica. Da questi, caratterizzati dalla materia impastata velocemente che conservava ancora la traccia dei colpi di stecca o addirittura dei polpastrelli dell'artista, si passava a modellini più rifiniti, in Creta o Gesso, che comportavano una ulteriore messa a fuoco della composizione. A questo punto si procedeva alla realizzazione del modello in Creta, nella stessa dimensione dell'opera definitiva, dove le figure venivano sostenute da uno scheletro composto da un'asta in ferro centrale da cui si diramavano aste più piccole, alle cui estremità venivano infine applicate delle crocette di legno. Questo consentiva, come egli stesso dichiarò, far reggere la Creta anche in macchine grandi assai e in figure fuori di piombo. Avveniva poi il successivo passaggio, attraverso la cosiddetta tecnica della forma persa, dal modello in Creta a quello definitivo in Gesso. La figura modellata in Creta, rivestita di un sottile strato di Gesso rossastro, veniva ricoperta di un ulteriore strato di Gesso bianco. Dopo aver eliminato, asportandola, la Creta, restava la matrice, all'interno della quale veniva infine colato il Gesso. L'ultima fase era quella molto delicata della distruzione della matrice stessa, in cui si doveva procedere con infinita cautela e abilità sino alla comparsa dell'intonaco rossastro per non intaccare la superficie della statua che emergeva. Allora venivano fissati sul modello in Gesso, così ottenuto, i punti chiave, quei piccoli chiodini di metallo la cui testa affiora ancora da molti gessi, su cui i lavoranti si basavano, come una guida sicura, nella fase della sbozzatura del marmo. La statua, quasi terminata, veniva infine trasferita nella stanza di Canova, dove riceveva dallo scultore stesso quella decisiva rifinitura che determinava l'autografia, allora è indicata con il termine di ultima mano, la mano del genio. Per calibrare meglio gli effetti luminosi della superficie, lo scultore dava una serie di ritocchi risolutivi al lume di candela. Faceva poi intervenire illustratori, lavoranti altamente specializzati, che levigando con particolari pelli o polveri e abrasive la superficie del marmo, gli conferivano un aspetto compatto. Con la chiusura di tutti i pori, la materia veniva come smaterializzata, raggiungendo quell'effetto che Canova chiamava di vera carne, per cui le sue statue appaiono vive e sensuali. Questa morbidezza venne in diversi casi accentuata, applicando alla superficie del marmo leggere coloriture o patinature, di cui poi si è perso il segreto. Torvalzen. In patria, presso l'Accademia Reale di Copenaghen, Torvalzen si era formato soprattutto come modellatore. Le sue prime esperienze nel taglio del marmo risalgono ai primi anni del soggiorno romano. Da quando riceve la prima importante commissione, la traduzione in marmo della statua semicolossale del Giasone per il collezionista anglo-olandese Thomas Hope, Torvalzen adotta in grande stile la prassi della divisione del lavoro introdotta da Canova. I suoi studi si trovavano in vicolo delle colonnette, una stradina parallela all'odierna via delle Quattro Fontane, sotto Palazzo Barberini. Quando il numero delle commissioni di statue monumentali diveniva sempre più impegnativo, Torvalzen affittò dai Barberini il cosiddetto Grande Studio, illustrato nel dipinto di Martens per distinguerlo dai citati Piccoli Studi. Si circonda di un numero sempre più elevato di collaboratori, ai quali demanda non solo la traduzione in marmo dei suoi lavori, ma anche l'esecuzione dei modelli in argilla. Egli sostanzialmente si dedicava alla parte creativa del suo lavoro, soprattutto alla concezione. Interveniva poi sui modelli in grande derivati dai suoi bozzetti ai quali attendevano gli assistenti. Infine esercitava il suo controllo sulla lavorazione finale del marmo, talvolta intervenendo di persona, tanto che il suo stile è ben chiaramente individuabile anche nelle sue statue in marmo e diverso da quello di Canova. Torvalzen lasciava appositamente le superfici più opache, in modo che la natura nobile della pietra non venisse tradita e trasfigurata per sembrare vivente come nelle opere di Canova. Il grande studio ospitava la collezione dei modelli originali dell'artista. I viaggiatori e i collezionisti potevano farsi un'idea immediata della vastità della sua immaginativa e potevano ordinare nuove traduzioni in marmo dei modelli esposti. A differenza di Canova, Torvalzen non assumeva solo lavoranti e sbozzatori, ma veri e propri scultori che, accanto al lavoro per il maestro, eseguivano anche opere originali, avviandosi poi a una carriera indipendente. È per questo che si può dire davvero che la gran parte degli scultori stranieri e italiani, ben più di duecento, passati per Roma nei primi decenni dell'Ottocento, abbia lavorato per Torvalzen, contribuendo poi a diffondere il suo magistero e l'influenza delle sue opere nei paesi d'origine, fino ad arrivare alle Americhe, da dove provenivano ad esempio Orescio Grino e Thomas Crawford. Canova Torvalzen prosegue il ciclo di importanti mostre realizzate alle Gallerie d'Italia nell'ambito del progetto Cultura di Intesa San Paolo, volte a valorizzare i principali protagonisti e le grandi stagioni della storia dell'arte italiana. Grazie. 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 Grazie.